E' stato esteso anche a Macchiarella e ad Ostia Antica nel decimo municipio il sistema di raccolta differenziata tecnologica porta a porta. Con gli oltre 11.000 cittadini dei due quartieri ad oggi sono circa 76.000 i romani serviti dal nuovo modello. Nelle settimane scorse è partito a Daxa, Centrogiano, Dragone e Dragoncello e Fontana Candida e Due Leoni nel sesto municipio. Il Campidoglio continua ad investire risorse per migliorare il servizio di trasporto pubblico. Stanziati dall'aggiunta Capitolina altri 18 milioni di euro per comprare nuovi bus Atac nei prossimi tre anni. Adesso si potrà accedere alle procedure d'acquisto. Invariato il finanziamento, 167 milioni già disposto per 600 nuovi autobus nel prossimo triennio. Attivo per tutta l'estate il Piano Mare, un programma specifico di raccolta differenziata che coinvolge circa 100 attività balneari sul litorale di Ostia. Realizzate anche attività di sensibilizzazione con la distribuzione di materiale informativo e gadget come iconi posa cenere in cartone riciclato per scoraggiare l'abbandono di mozziconi di sigarette in spiaggia.